Ciao a tutti! Oggi ho cercato di ricreare una postazione un po' più cosy del solito perché volevo parlarvi un po' delle mie ultime letture, quindi degli ultimi libri e fumetti che ho letto proprio in tranquillità, molto chill e quindi fatemi sapere se sono riuscita nell'intento. Prima di incominciare come al solito vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo in tanti modi diversi, potete iscrivervi, mettere mi piace a questo video, commentare qua sotto. In più in descrizione oltre agli altri social dove mi potete trovare come ad esempio Instagram dove ogni giorno comunque ci sentiamo e vi do qualche consiglio, potete sostenermi anche con una simbolica tazza di tè o caffè attraverso coffee, il link è sempre qua sotto in descrizione. Grazie davvero di cuore a tutti quanti! Direi di iniziare subito con un libro che avete già visto qua sul canale, ovvero La Porta di Mogda Sobo. Ho infatti registrato un reading vlog che trovate nelle schede qua sotto in descrizione dove vi racconto passo a passo che cosa ho pensato di questo romanzo, che ho iniziato a Budapest, luogo in cui è ambientata la storia. Per chi non lo sapesse la scrittrice infatti è un gherese e in questo romanzo vediamo per protagoniste due donne molto diverse fra di loro, la padrona di casa e la domestica. Hanno un rapporto di amore ed odio che arriva quasi ad essere un rapporto fra nemiche in certi punti e in altri fra madre e figlia. È molto complesso e articolato ed è basato anche su veramente piccoli gesti e dettagli quotidiani. Per ora è il romanzo che più ho preferito di questa autrice perché penso che indaghi molto profondamente l'animo umano. L'autrice non ha paura di dipingere due donne nei momenti più belli, anche quelli più brutti, oscuri e contraddittori. È molto interessante vedere come nel tempo il rapporto fra le due protagoniste cambi, si evolva e anche scoprire un po' di più sul loro passato, sul comprendere meglio perché sono diventate quelle che sono oggi. Abbiamo poi sullo sfondo una Budapest in particolare, se non sbaglio ci troviamo a Pest, molto particolare che emerge un po' da piccoli dettagli fatti di vestiti, cibi tradizionali, piccole usanze. Se volete iniziare ad approcciarvi alla letteratura ungherese questo potrebbe essere un ottimo inizio. Un'altra storia che mi ha conquistata è Stargazing di Jen Wang. Anche qua il rapporto è fra due protagoniste principali, due amiche, di nuovo due bambine molto diverse fra di loro. Christine e Moon infatti hanno famiglie di origini asiatiche, vivono in America ma non potrebbero essere più diverse. La famiglia di Christine è molto tradizionale, quindi la porta a coltivare particolarmente lo studio. L'allenano un po' al pensiero di non accontentarsi di lavorare sodo, studiare per avere un ottimo futuro. Mentre la madre di Moon le lascia vivere una adolescenza più, diciamo, americana. E quindi Christine vede nell'amica tutto quello che lei vorrebbe essere, vede tutte quelle libertà che a lei non sono concesse. E forse proprio grazie a questa grande diversità le due si avvicinano e diventano per l'appunto amiche. Ma Stargazing non è soltanto una storia di amicizia, perché infatti man mano che prosegue la storia entra sempre più nel profondo. Doveva toccare un tema, secondo me, molto delicato ma importante, che ha toccato anche l'autrice stessa, e questo io non lo sapevo, durante la sua infanzia. Quindi è stato, secondo me, molto interessante. È una storia che parla delle difficoltà, diciamo, di integrarsi in una cultura, società molto molto diverse. Tratta anche lo scontro fra quelli che sono i sogni, i desideri di un adolescente e le aspettative invece della famiglia. Una lettura breve che mi ha colpita tanto è stata il ballo di Irene Nemirovski. Protagonista di questo piccolo racconto è una famiglia che da un giorno all'altro si trova all'improvviso ricca. E quindi fa un balzo, diciamo, di categoria. Non si parla però esclusivamente del rapporto fra classi sociali differenti, ma soprattutto, a parer mio, del rapporto conflittuale madre e figlia. Delle invidie che si possono creare e delle dinamiche più, tra virgolette, oscure. Nonostante sia un racconto comunque breve, come vi dicevo, secondo me questi temi principali vengono trattati bene. Vanno a segno, fanno comunque riflettere sulla situazione familiare, sul modo in cui i soldi, tra virgolette, il potere, influenzino lo status di una famiglia e certe dinamiche. È stato il mio primo approccio con questa autrice e devo dire che sono molto curiosa di scoprire qualcos'altro. Magari se avete dei consigli lasciatemi qua sotto nei commenti. Di famiglia si parla anche in questo fumetto, le sorelle Gremiglie, Didi, Gregorio e Barbucci. Si parla in particolare di tre sorelle, di nuovo molto diverse fra di loro, che decidono di indagare un po' sul passato della madre, perché si rendono conto in occasione della festa della mamma che non sanno granché della loro madre giovane. La madre stessa fa un po' la misteriosa in certi momenti e quindi indagando scoprono in soffitta una foto che fa loro sorgere diversi dubbi, quindi si mettono a indagare un po' sul passato della madre. È una storia familiare molto carina, di nuovo il rapporto fra sorelle è un po' di amore ed olio, è una storia molto tenera e buffa, ma molto molto breve. Quindi sia i personaggi che la storia vengono sviluppati in maniera molto veloce. Non si entra molto nel profondo per quanto riguarda le varie tematiche, rimane una lettura sicuramente molto piacevole, anche dal punto di vista visivo i disegni sono veramente molto molto belli, anche i colori scelti, però insomma io l'ho trovato veramente molto breve, quindi troppo veloce per rimanere particolarmente impresso. Altra storia molto carina è stata Figlia di Luna, di Greta Xella, la storia di una ragazza che si mette all'avventura per trovare una cura alla malattia molto misteriosa della madre. Infatti sua madre ha degli attacchi molto particolari, sembra non riconoscerla e in altri frangenti sembra quasi volerla aggredire. Si mette quindi alla ricerca di una soluzione in un mondo particolarmente magico, una vera e propria avventura fantastica che di nuovo affronta diversi temi legati alla famiglia ma anche alla crescita. Molto molto carino, la palette colori poi utilizzata è fantastica perché è molto ricca di viola, di lilla, colori che a me piacciono particolarmente, quindi è stato molto carino e magico anche da leggere dal punto di vista visivo. Trovo però che ci siano tante cose non spiegate in maniera approfondita, dei passaggi forse troppo veloci, delle conclusioni a cui si arriva senza un reale diciamo percorso e non dico che ci debbano essere sempre tutte le risposte, però in questo caso ho un po' sofferto la mancanza di alcuni passaggi, di alcune risposte, di alcuni dettagli. Una lettura che mi ha sorpresa tantissimo è stata Il circo della notte di Erin Morgenstern o per chi mi segue su Instagram Il circo dei gatti e della gente vestita bene. Delle autrici avevo già letto Il mare senza stelle che non mi aveva conquistata totalmente, ovviamente soprattutto per lo stile della scrittrice, l'avevo trovato un po' ridondante, un po' troppo lento per quelli che sono i miei gusti, quindi avevo un po' di timore ad affrontare anche questo suo romanzo. Si tratta di un fantasy autoconclusivo che ha come sfondo appunto il circo, la magia, l'illusionismo. I protagonisti in particolare sono due maghi che per tutta la loro esistenza fin da bambini vengono allenati per affrontare una sfida, dovranno infatti sfidarsi, ma non sanno bene chi è lo sfidante né tantomeno che prove prevede questa sfida, cioè in che modo dovranno affrontarsi. Sono rimasta molto affascinata dall'atmosfera, innanzitutto dalle varie scene che vengono presentate, le varie tende del circo, i vari personaggi e protagonisti insomma che compongono questo grandissimo spettacolo e anche quelle ambientazioni al confine fra immaginazione e realtà. Anche i personaggi, devo dire, non mi sono dispiaciuti, nonostante alcune dinamiche fra di loro siano piuttosto prevedibili e scontate. È un libro che mi è piaciuto tanto. Fosse stato forse lungo, non dico la metà, ma almeno 100-150 pagine in meno, forse mi sarebbe piaciuto anche di più. Ci sono dei capitoli che secondo me rallentano molto la narrazione e che aggiungono tanto in termini di parole, ma non di fatti. Quindi, di nuovo, l'ho trovato in certi frangenti un po' lento per quelli che sono i miei gusti, un po' troppo artificioso nel modo in cui è stato scritto. Però nel complesso mi è piaciuto molto di più rispetto al Mare senza stelle. Ho letto poi questa miniserie composta da due volumi, che è Giuseppe, la tigre e i pesci. Vi ho già parlato di questa storia, del confronto fra manga e film, quindi sarò piuttosto breve. Nel caso vogliate approfondire, vi rimando appunto a quel video. La storia originale è di Seiko Tanabe, mentre il disegno del manga è di Nao Emoto. I protagonisti di questa storia sono due ragazzi sui 20 anni. Quindi lui sta studiando qualcosa di molto simile a Biologia Marina e ha il sogno di studiare all'estero. È una persona molto attiva, che ha bisogno di risparmi per poter realizzare il suo sogno e per questo fa diversi lavoretti, fra cui ad esempio lavorare in un negozio di attrezzatura per immersioni, perché gli piace molto fare questo tipo di escursioni. Un giorno, tornando a casa, si imbatte in una ragazza sulla sedia a rotelle, che ha più o meno la sua età, ma ha sempre vissuto, diciamo, chiusa in casa. Vive con la nonna, ha perso i genitori e il suo mondo è rappresentato appunto dalla sua stanza. Il ragazzo diventerà poi il badante di José e insieme allargeranno un po' i confini delle loro vite. Si parla di crescita, si parla di crescita, di sogni, di giovinezza, c'è un risvolto anche sentimentale, si affronta anche la disabilità. È una storia che mi è piaciuta tanto, più il primo volume rispetto al secondo, forse perché è un po' più giocoso e divertente. Nel secondo entrano in scena degli eventi che secondo me rendono la storia un po' meno credibile, però nel complesso è veramente molto carina come storia, soprattutto se vi sono piaciuti film o manga, tipo Voglio mangiare il tuo pancreas o la forma della voce. Altro manga di cui attendo tantissimo il seguito e che mi è piaciuto tanto è Colun Generic Romance di Jun Mayuzuki. Anche di questo vi ho parlato già in diverse occasioni. Ci troviamo in questa città un po' futuristica, ispirata a Hong Kong, che è appunto Colun, e seguiamo due agenti immobiliari nella loro vita quotidiana. La città è molto nostalgica, ma c'è anche una componente un po' fantascientifica che secondo me potrebbe giocare un ruolo molto importante più avanti, perché il finale ci lascia un po' così, con qualche domanda. Una storia romantica, ma non solo. Molto interessante, soprattutto se avete già letto qualcosa di Jun Mayuzuki, secondo me amerete anche questo fumetto. Se state cercando appunto qualcosa di un po' misterioso, non solo sentimentale, secondo me potrebbe fare a caso vostro. Per il gruppo di lettura di settembre abbiamo letto assieme Le domestiche di Tanizaki, che purtroppo non mi è piaciuto. Seguiamo una famiglia nel corso di diversi anni, in un periodo storico molto particolare in Giappone, in cui ci si stava aprendo forse un po' di più al moderno, e quindi vediamo la famiglia affrontare diversi cambiamenti, come si adatta o meno anche alcuni eventi diciamo storici, tutto attraverso l'occhio dei domestici, delle domestiche, come appunto dice il titolo. Premesse che io avevo trovato molto interessanti, soprattutto per rivedere questa famiglia crescere ed evolversi, una famiglia che poi ha un rapporto con appunto i domestici particolare, perché spesso rimangono in contatto anche dopo il servizio, si interessano a loro, a vita anche sentimentale, insomma c'è un rapporto comunque lavorativo che a volte va più nel profondo, nell'intimo, come se quasi si fosse conoscenti, amici. Però lo sfondo storico, che forse era quello che mi incuriosiva di più, in realtà non è così tanto presente, io almeno non l'ho percepito, inoltre è stata una storia per me molto noiosa e davvero poco interessante, quindi non mi ha fatto impazzire purtroppo. Ultimo titolo per oggi, My Genderless Boyfriend, il primo volume di una nuova serie di Tameku, autrice che io ho già incrociato per via dei suoi boys love pubblicati qua in Italia, che ero curiosa di vedere in una nuova, diciamo, veste, perché il suo tratto mi piace particolarmente. In questa storia infatti non si parla di un amore fra uomini o fra donne, ma fra una donna e una persona genderless. Diciamo che forse avevo aspettative troppo alte, forse mi aspettavo una storia fin da subito coinvolgente o emozionante o forte, carica, non so di che cosa nemmeno io. Fatto sta che sono rimasta un po' tipidina nel leggere questo primo volume, perché è una storia abbastanza normale nel senso piatta, classica, come qualsiasi altro fumetto. Alla fine l'aspetto, diciamo, genderless non viene così tanto affrontato e soprattutto vi si fa riferimento in merito quasi esclusivamente all'aspetto estetico. Quindi forse scioccamente io mi aspettavo qualcosa di assurdo questo fumetto, non è una storia, come posso dire, brutta, forse è un po' semplice, un po' banale, ma è anche vero che è un primo volume, quindi forse diventerà un po' più interessante con i seguiti, questo io non lo so. Di nuovo forse avevo aspettative troppo alte, forse mi aspettavo qualcosa che mi prendesse fin da subito e così non è stato. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se avete letto anche voi uno dei titoli che ho citato oggi, in questo caso qual è stata la vostra opinione al riguardo. Io spero di avervi tenuto un po' di compagnia e ci vediamo alla prossima. Ciao!